Ciao a tutti amici di Youtube e ben ritrovati a questo nuovo episodio di My Dear Games Oggi, prima che iniziamo questo nuovo episodio di Giochi Flash, vorrei ringraziare un canale che è il canale di CubeXD Dirt che un tempo fa ha fatto un contest per i suoi 100 iscritti e sono arrivato primo e mi ha sponsorizzato, quindi lo ringrazio ancora, qui nella descrizione metterò il suo canale, se volete darci un'occhiata ne vale la pena Allora, iniziamo questo nuovo episodio di Giochi Flash con Save My Shadow, Salva la mia ombra Allora, è un gioco in cui noi dobbiamo, interpreteremo questo omino e andremo avanti con le barra spazzatrici Sì Andiamo avanti con Wazd e spariamo con la barra spazzatrici Ok, allora, i primi livelli sono abbastanza facili E' il dopo che diventa tutto un problema Muori, merdaccia Vai Allora, get the key I primi livelli, come volete vedere, sono molto basilari, molto semplici E invece con l'andare avanti diventeranno una cosa... Una rottura di coglioni atroce Perché mi muori... Già qua muoio parecchie volte Poi... Vai Già qua si inizia a morire Non mi chiamavano... Mr. Preciso Dai, salta su quella piattaforma La piattaforma Vabbè, adesso ne puoi passare il livello Ora inizia le prime difficoltà Inizia ad esserci... Il coso appunzionato che... Ecco Ora ho mancato anche la piattaforma Mi toccherà aspettarla Yeeeh No, 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 wow Fa il culo Vai, eh Sei pronto? Salta Maremma Spasmodica Che salti di merda Dai Sono vivo Sono vivo Nooo Non è possibile Non ci posso credere Ma che gioco di merda Lo sparo e lo ammazzo Nooo Così è la mia che c'è a sto livello qua Dai, nell'andare avanti morirò In continuo Ahaha Intellicente come un... Il cosciente intellettivo Qua è il cosciente intellettivo Di un... Di un brà Tipo Un salmino C'è questa musicina Che ti mette il buon onore Era meglio QWOP Era più facile Non mi vero QWOP è più difficile Ma QWOP è tutto il programma Seeei Attenzione Che può prendere le vite O no Sì A prendere le vite Oh madonna Bastardo di una piattaforma Mi ha buttato di sotto Ora ne è stata la piattaforma Facciamola andare via Finché sono in tempo No basta Non le prendiamo Le due vite Che restino pure lì Ah Quindi Potete vedere le Munizioni qua non ce l'ho Va bene Ecco qua Bisogna essere Livelli di difficoltà Superiore Perché ho poche vite Per fare questo livello Wow Genius Aia Sono in Sicile Le lame Che sono già chiapato Le due volte Già bello è morto C'è l'aspettare Dai Raffanculo Mi sparano anche Dai Sì Timing Ah Devo stare attento Al tempo In cui salgo da sopra Vai Vai Forza Siamo tutti con te Sì Ma Viene Ah Devo saltare Di questo Ah Ma F***g Genius Ma qua ho una vita sola Devo stare attento Perché ho una sola vita Devo stare attento Coglione Dai Salta Di là Vaffanculo Mi ha accettato Ho ho Perché sei un'ascia Come si vuol dire Lascia Lascia E accetta L'accetta Troll face Ma che no Morto Ancora Una volta Devo riuscire a finirlo In qualche modo Credo siano 16 livelli Forse un po' di No Mi mangio le mani Perché non ho nient'altro Da qui Attingere Da le battute Coglione Madonna Mi tocca aspettare E mi è saltato Sto Mertaglio Sto Merda Corri Sì Ecco Questo è lo più difficile Del gioco Sono me Ecco perché Va Un culo E muore Dai Fermo No 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 Non c'è andare a passare le bombe Beh Devo scervellarmi Tutto il giorno A fare questo livello Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Che culo! Brutti che questi mirano a me, cercano di sparare a me, appena mi sposto, loro si spostano con me, si, si, no, mi sto arrivato, c'è arrivato, c'è arrivato, c'è arrivato, suona il telefono, attenderanno, mi dispiace per loro, io ho da fare, perché sono stato un po' qua, non rispondo, c'è da fare. Basta! Sono arrivato al livello 13, ne mancavano solo 7, vabbè, dai. Finisce qua anche quest'episodio di Giochi Flash, lo so che avevo promesso un gioco horror, però ho avuto dei problemi, volevo fare un video di un gioco horror nuovo, ma lo farò la prossima volta, va bene, dai, qui da Gabby Dagon, se voi ci avete visto, e come sempre, al prossimo episodio di My Dear Games, non mancate, mi raccomando. Ciao! 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 Ciao!